Benvenuti ragazzi in questo nuovo video dopo l'episodio precedente in cui purtroppo abbiamo buttato la qualificazione in buttato abbiamo provato a qualificarci per l'ottavo di finale di Europa purtroppo la verità è che non siamo pronti e quindi siamo usciti adesso ci andremo a giocare invece un'altra partita fondamentale perché Juventus New Ponton è pronta ci vediamo in campo e siamo super pronti Juventus New Ponton inizia qui uno dei match più importanti e più belli forse della stagione perché siamo sesti in classifica comunque stiamo carichi non vinciamo da molto da molto tempo non troviamo tre punti in campionato mancano ormai da un po' dobbiamo assolutamente cercare di trovare la vittoria ma in casa non è facile in casa della Juventus che è nelle prime posizioni Pagano rinvia e verticalizza per El Sharaoui che prova a cambiare passo Stefan El Sharaoui El Sharaoui salta Bremer molto bene in qualche modo trova Andur che poi alza per Kuni Kuni controlla il pallone e prova a entrare in rete rigore c'è Bremer che chiude molto bene qui rischia però su Andur che fa pressione ma fa anche fallo quindi calcio di punizione che torna a titolare dopo un po' di tempo perde il pallone poi Lipani battaglia ancora da Kuni Kuni prova ad andar via scappa via Kuni che deve ritrovare il gol prova ad andar via Kuni chiuso da Varane Bremer che difesa la Juventus Chiesa Milinkovic eccolo Milik palla in avanti Chris Smalling ottima chiusura ancora Andur cambia passo Andur poi col mancino trova El Sharaoui che controlla e col destro allunga per Pagano Bremer chiude molto bene allontana palla in out rimesso laterale al trentatresimo con Zenter che velocizza e va da Lipani ancora Zenter a cercare El Sharaoui si fa vedere Kuni oggi El Sharaoui dietro le punte palla per Andur ecco lo ha servito Zenter che si è inserito Zenter fino in fondo la finta scarica indietro c'è Kuni che poi appoggia ancora per Lipani che carica la botta la prova tiro deviato poi palla che finisce da Milinkovic Savic in fondo c'è Zenter in chiusura la porta verso l'uscita palla bassa Vlaovic Vlaovic eccolo qui al quarantaquattresimo il gol di Dujan Vlaovic la Juventus stava costruendo qualcosa e alla fine in area di rigore troppo solo si gira e trova il gol dell'1-0 siamo praticamente in un periodo di crisi assoluto il mio punto non va negli spogliatori con il risultato in svantaggio per 1-0 Dujan Vlaovic guarda Milik 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 Palason calcia sul primo palo trova Martinez che mette in calcio d'angolo pronto un altro cambio fuori Zenter dentro Longo 7 ore spediti dal New Pondon un po' giù di morale cross sul primo palo esce Martinez in presa e blocca e fa ripartire Kuni Bernard Kuni poi si vada il Sharawi prova a partire Kuni il Sharawi parte anche lui salta in qualche modo Varane il Sharawi poi in buca per Kuni la palla è ottima in area di rigore Kuni allo stadium al sessantesimo si riaccende la luce di Kuni 1-1 l'assist di il Sharawi scappa male Bremer e anche Varane e alla fine mette dentro e anche Gatti anzi alla fine mette dentro il gol dell'1-1 il grande Kuni che è sempre più capocannoniere della nostra squadra e al sessantesimo 1-1 contro la Juventus poi ce l'andiamo a vedere la classifica marcatori magari dopo attenzione Vlaovic salta l'avversario prova a ripartire subito la Juventus grande chiusura di Lipani poi Pagano regala ancora Vlaovic che calcia Martinez il regalo di Lipani che ha rischiato tanto anzi di Pagano che ha rischiato tanto intanto un altro cambio fuori il Sharawi che ha fatto una discreta gara dentro Walter attenzione Chiesa il cross palla sul fondo tra l'altro la Juventus con la difesa 3 Bremer Varane Gatti esce adesso Gatti entra Florentino cambia anche assetto tattico la Juventus intanto Chris Smalling tanta pressione da parte della Juventus Lipani in qualche modo verticalizza così la Juventus rischia e non poco perché ci sono i buchi al centrocampo c'è Cuny che adesso porta palla trovato poi Pagano Pagano in buco ancora per Cuny la palla è in profondità è perfetta e c'è il gol al 72esimo Cuny doppietta la posizione è regolarissima pensavo ho titubato un attimo perché pensavo che la posizione fosse di upside e invece trova il gol Cuny che qui scappa al momento giusto la difesa della Juventus smessa male Pagano in buca bene Cuny piazza sul primo palo è 2 a 1 e è una partita che ha del clamoroso perché eravamo partiti malissimo poi la Juventus è riscesa di intensità e qualità e noi abbiamo trovato allora i sbocchi e i contropiedi giusti per fare due reti ma adesso deve rispondere la Juventus a 15 minuti per recupero per provare a riprendere una partita che si è messa in maniera complicata contro un buon New Ponton contro un grandissimo Cuny che prova adesso ad andare quindi Federico Chiesa fino in fondo Chiesa salta tutti Chiesa poi alla fine Russo mette il punto esclamativo su questa chiusura e poi apre per Longo e fa ripartire l'azione Longo cerca Pagano quanto sono liberi i centrocampisti del New Ponton Pagano strappa Pagano non lo prende nessuno Pagano prova ad andare poi trovato Cuny Cuny va run va in chiusura poteva far meglio qui Cuny intanto possesso di pala per Bremer che fa ripartire Kokciu e allora attenzione a Locatelli adesso Rabiot squadre spaccate Milik può aprire Milik ma posizione regolare di Chiesa allora Milik fa tutto da solo lo serve adesso Russo ancora Russo che chiusura su Chiesa poi col destro fa ripartire battaglia perché praticamente libero è da solo si stacca Bremer ma sbaglia perché lascia Cuny da solo allora Cuny si invola verso la porta Cuny 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 va run impetuoso Varane sotto questi punti di vista Florentino scarica da Scesni rischia qualcosa poi Varane sta per arrivare e arriva certificato il triplice fischio torniamo alla vittoria in uno degli stati più complicati d'Italia Juventus New Ponton finisce 2-1 la doppietta di Cuny manda tutti a dormire una vittoria fondamentale che ci avvicina sempre di più alla rincorsa per la Champions League andiamo a meno 2 dalla Roma che pareggia la partita che aveva in più perde quella dopo quindi con una partita in meno abbiamo la possibilità di andarci a prendere il quarto posto il problema che affrontiamo il Milan che abbiamo ripreso quindi a pari punti siamo con il Milan che per sconti diretti è sotto ma adesso ragazzi c'è New Ponton Milan in casa nostra ospitiamo il Milan questa è un'occasionissima per andare ai quarti e per staccare proprio i rosso-neri non sarà facile andiamo a vedere al volo la classifica marcatori e poi andiamo a giocare perché ci aspetta una partita importantissima tra l'altro i big match a noi ci capitano sempre 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 tutti attaccati l'altro peccato è che però abbiamo reggito dopo l'uscita dell'Europa ricordiamo Kuni che con 19 partite quindi meno di tutto il resto degli attaccanti è a 12 gol stagionali ottavo in classifica e poi abbiamo solo Chris Smalling con 7 gol all'attivo in 22 presenze mamma mia quanti gol Stefano Elcerawi all'attivo e ciao una Prate e Walter anche per noi per quanto riguarda il discorso assist e anche sotto il punto di vista della rete involate non siamo messi malissimo siamo pronti ad andare a giocarci una delle partite più importanti della stagione è uno sconto diretto che deve essere vinto andiamo a fare la miglior formazione possibile ad oggi e ci vediamo in partita visto che non abbiamo più tanti impegni tutti attaccati ho deciso di fare così Zirk Zee alle spalle di Kuni quindi i due bomber all'attivo sperando che Zirk Zee da assistman riesca a fare meglio vediamo ospitiamo il Milan non è facile dobbiamo andare a vincere è uno scontro diretto super incredibile un super episodio questo intanto Kim Pembe prova ad impostare la chiusura di peta iniziale poi Kim Pembe trova Bentancur dentro il campo le squadre quanto si sono rafforzate comunque Leao attenzione parte Leao Leao va col destro poi col sinistro Leao fino in fondo Leao che azione da campione il numero di S 1-0 all'ottavo minuto è partito è sgattaiolato via la difesa ha saltato tutti nessuno è andato ad intervenire in maniera importante e allora ha trovato il gol dell'1-0 Martinez non può nulla gol sul suo palo ma molto potente molto ravvicinato 1-0 Pagano proviamo a rispondere subito con la palla centrale per Prati Prati poi cercato ancora Ferguson che torna a titolare Ferguson per cerca Kuni che controlla Kuni da Zikze che controlla il pallone perde il pallone poi appunto sulla chiusura di Calabria credo allora attenzione riparte ancora Leao infermabile quest'oggi Leao allora Bentancur valla ancora per Benazer che gioca il pallone centralmente per Bentancur ancora Leao prova ad andare via Chris Smalling a vuoto cerca Balotore ancora Leao infermabile Leao Leao sta facendo quello che gli pare Leao fino in fondo Leao Martinez risponde calcio d'angolo al ventesimo è solo Rafa Leao il Milan attenzione a Benazer calcio d'angolo passaggio corto per Reinders gioca ancora Benazer uno schema riuscito anche abbastanza bene Smalling mette il punto esclamatica sulla chiusura e prova a ripartire in contropiede cercando Ciauna che poi va da Cuni anzi è Ferguson Ferguson protegge Lancia poi Ciauna la chiusura di Sclutterbeck è molto importante Balotore Sclutterbeck allora ancora Kim Pembe Benazer Leao di prima eccolo Gonzalo Ramos apre con la punta benissimo per Angelo che cerca ancora Gonzalo Ramos che prova la conclusione Smalling Davy ancora calcio d'angolo il Milan molto più aggressivo rispetto alla Juventus che abbiamo affrontato in precedenza attenzione Reinders prova ad andare via palla ancora bassa poi Prati chiude molto bene Pagano di prima cercato Cuni bruttissima palla intanto Kim Pembe regora il pallone ancora Angelo grande chiusura di Prati e allora Zenter pronta ad avviare il contropiede Zenter parte poi scarica per Pagano Pagano prova a partire Sclutterbeck lo prende Pagano prova la palla per Zenter la chiusura di Benta ancora attenzione ancora Angelo che prova ad andare Smalling chiude rimessa laterale per noi al 35esimo Zenter Smalling gestisce il pallone Zenter poi dà una soluzione offensiva anche Smalling allora Baschirotto velocemente apre per Fusun Mensah che prova ad andare Fusun Mensah Cuni aspetta il pallone Cuni e Zirkze male lì davanti intanto Fusun Mensah anzi c'ha una regora un grande pallone allora adesso Fusun prova a partire lui Fusun cerca c'ha una fraseggione i due c'ha una poi centrale per Cuni eccolo Cuni Zirkze Cuni apertura ancora per Ferguson che si è inserito Ferguson bene fino in fondo poi scarica per Ciauna che entra dentro al campo scarica la finale indietro per Chris Smalling può riaprire per Pagano invece va da Zenter Smalling ancora Zenter poi cercato ancora Cuni che cerca ancora Zenter grande azione poi palla per Zirkze chiuso da Schlatterback Zirkze che è pur difficile pronunciarlo in velocità palla dentro l'area di rigore viene chiuso bene da Kimpembe si fa nei spogliatoi 1-0 gol di Rafa Leao ho trovato Baloture che controlla il pallone rischia qualcosa su per cercare Bentancur però in qualche modo lo trova poi Bentancur l'ha cerchiato costretta allora tornata Bennazer palla ancora dentro Baschirotto c'ha una troppo frettoloso il Milan c'ha una lancia Cuni un passaggio sbagliato secondo me che si va ad andare in profondità Cuni dentro Zirkze Maignan mamma mia non riuscivo neanche a parlare per l'occasione incredibile che si stava formando per il New Pondone la palla dentro Zirkze di prima c'ha un miracolo assoluto di Maignan calcio d'angolo 68 c'ha una cross dentro a cercare Smalling che non trova lo stacco di testa allora ancora palla dentro Bennazerra lontana c'ha Gonzalo Ramos che poi di testa fa un lavoro clamoroso recupera il pallone allora il Milan con Gonzalo Ramos che può poi verticalizzare c'è Leao eccolo visto è servito ancora Leao Leao punta Smalling chiude molto bene Ferguson fa ripartire c'ha una che controlla il pallone c'ha una va in dribbling c'ha una saltato Benna ancora attenzione perché adesso è scoperto il Milan c'ha una c'ha una fino in fondo salta sclotterback manco tanto però calcio d'angolo no neanche calcio d'angolo incredibile rimesso al fondo vado ad andare a lottare non trova il pallone allora ancora Milan Kimpembe in posta ha cercato Leao Leao si gira su se stesso fa un altro numero Leao che non si è visto per niente solo nell'occasione del gol ma ci ha purgato attenzione Reinders palla dentro Caffor 2-0 2-0 Milan che ghiaccia la partita quindi si va a prendere lui il quarto posto con le unghie e con i denti va più uno dalla Roma e ha più tre da noi e niente paghiamo paghiamo il fatto che non siamo incisivi sotto porta troppo moglie al centro campo io credo di voler ricambiare modulo adesso finiamo questo match disastroso e andiamo direttamente col prossimo match intanto Baschirotto ha chiuso su Leao Smalling che rischia di fare una cazzata la fa tra l'altro poi stiamo regalando tutto voglio solo che questa partita finisca bene così Martinez si rinvia lungo ho trovato Kuni anzi Walter finisce qui 2-0 ci volevo portarvi tre episodi in un unico tre partite in un unico episodio invece ho deciso di dividere e andremo quindi vi lascio per quanto riguarda questo video così ne registro un altro e ci vediamo direttamente al prossimo episodio ragazzi rimanete qui perché mancano 10 giornate si deciderà tutto all'ultimo per quanto riguarda questa stagione sperando che accediamo alla Champions League e poi completeremo con la quarta stagione del mio pontone siamo partiti dalla serie B ci siamo fatti un anno di serie B vinto e Rio di secondi serie A e siamo andati in Europa League subito e adesso ci siamo fatti l'Europa League percorso non è andato benissimo il progetto continua ci sarà una quarta stagione vediamo però alla conclusione della quarta stagione se non abbiamo portato alcun titolo ragazzi bye bye ma la quarta stagione è l'ultima per provare a portare a coronamento di un percorso stupendo comunque vada al prossimo video grazie a tutti